Anziani e futuro, cittadini attivi, comunità solidali. E' questo il progetto che l'Auser provinciale di Taranto ha presentato questa mattina, una ricca e lunga videoconferenza. Siamo con la presidente provinciale di Taranto dell'Auser, la dottoressa Lina Arpaia. E allora, presidente, facciamo un po' il punto di questo progetto, i finanziamenti, i benefici che porterà al territorio. E' un progetto finanziato dalla Regione Puglia nell'ambito del bando Puglia Capitale Sociale 2.0 e avrà la durata di 12 mesi. E stamattina abbiamo rilanciato il progetto perché il progetto era stato approvato da un po' di tempo e la pandemia ha rinviato la partenza. E' un progetto Anziani e futuro che vuole mettere in relazione gli anziani con i giovani e partire dalla considerazione che l'anziano è una risorsa e che deve essere valorizzata e deve essere curata dai giovani perché stiamo vivendo un periodo in cui oltre al virus cioè gli anziani sono tanti e i giovani sono... Le marginazioni proprio che vivono gli anziani sono pochi quindi verranno attivate tutta una serie di attività che sono attività di laboratorio soprattutto l'aiuto quotidiano, la spesa, l'accompagnamento protetto, la compagnia telefonica la compagnia a casa e il disbrigo di tante pratiche ma poi tante attività di stimolo anche dal punto di vista cognitivo cioè attività di socializzazione, canto, ballo, gite per la conoscenza del territorio attività di informatica perché è molto importante poi il laboratorio di scrittura e il laboratorio di stimolazione cognitiva cioè tutte quelle attività che gli anziani anche in età avanzata appunto devono tenere vivo quindi hanno bisogno di stimolo e in ultimo, non perché meno importante, la cittadinanza attiva cioè una cittadinanza attiva, cioè noi viviamo in un mondo così complicato per cui c'è il bisogno del contributo di tutti quindi tutti dobbiamo cercare di dare qualcosa e quindi dobbiamo conoscere per essere attivi con me ci sono due ragazze giovanissime che sono del servizio civile universale quindi loro hanno partecipato al bando e sono state selezionate staranno con noi un anno quindi saranno di supporto perché appunto come dice il progetto e come abbiamo scritto nel progetto cioè la presenza dei giovani sono di stimolo molto di stimolo agli anziani quindi loro già nei primi giorni che stanno qui anche se ci sono pochi anziani perché purtroppo la pandemia non consente la partecipazione di tanti quindi dal primo luglio saremmo aperti però sempre osservando delle regole quindi loro saranno di supporto Ascoltiamo il loro pensiero con che spirito vi approntate vi approcciate a questa nuova esperienza che è un'esperienza innanzitutto sociale Io sono molto contenta e fiera di partecipare a questo percorso perché credo che sia una crescita personale ma soprattutto credo che sia importante poter partecipare anche alla società e renderla più solidare, più inclusiva e credo che questa associazione lo faccia in modo appropriato Ecco, questa parola fondamentale o se dire parola magica l'inclusione Sicuramente l'inclusione perché l'inclusione è dettata anche con i giovani sicuramente possiamo cercare di aiutare con i mezzi che disponiamo la convivenza tra gli adulti e i giovani quindi ci deve essere anche uno scambio reciproco insomma tra valori e aiuto, assistenza e anche magari un supporto psicologico o solamente con l'ascolto Grazie a tutti